Dal libro di Mormon, Due Nefi, Capitolo 1 Ed ora venne che dopo che io, Nefi, ebbi cessato di istruire i miei fratelli, anche nostro padre lei disse loro molte cose e ripetè loro quali grandi cose il Signore aveva fatto per loro nel portarli fuori dalla terra di Gerusalemme. E parlo loro riguardo alla loro ribellione sulle acque e alla misericordia di Dio nel risparmiare loro la vita, cosicché non erano stati inghiottiti dal mare. Ed egli parlò loro anche riguardo alla terra di promessa che essi avevano ottenuto, come il Signore era stato misericordioso nell'advertirci di puggire dalla terra di Gerusalemme. Poiché ecco, disse egli, ho avuto una visione dalla quale so che Gerusalemme è distrutta e se fossimo rimasti Gerusalemme saremmo periti pure noi. Ma disse egli, nonostante le nostre afflizioni abbiamo ottenuto una terra di promessa, una terra che è scetta sopra tutte le altre terre, una terra che il Signore Dio ha convenuto con me che sarebbe stata una terra per l'erita alla mia posterità. Sì, il Signore ha dato per alleanza questa terra a me e ai miei figlioli per sempre e anche a tutti coloro che sarebbero stati condotti fuori dalle altre nazioni dalla mano del Signore. Pertanto io, Nefi, profetizzo secondo l'influenza dello Spirito che è in me che nessuno verrà in questa terra salvo che vi siano portati dalla mano del Signore. Pertanto questa terra è consacrata a colui che egli vi porterà e se accadrà che essi lo serviranno secondo i comandamenti che egli ha dato loro sarà per loro una terra di libertà. Pertanto non saranno mai ridotti, scrivi tu, se ciò verrà sarà a causa dell'iniquità poiché se l'iniquità abbonderà il paese sarà maledetto a causa loro ma per i giusti esso sarà benedetto per sempre. Ed ecco, è saggio che questa terra sia tenuta per ora celata alla conoscenza di altre nazioni poiché, ecco, molte nazioni invaderebbero il paese cosicché non vi sarebbe più posto per una verità. Pertanto io, lei, ho ottenuto una promessa che in quanto che coloro che il Signore Dio porterà fuori dalla terra di Gerusalemme obbediranno ai suoi comandamenti essi prosperiranno sulla faccia di questa terra e saranno tenuti celati a tutte le altre nazioni affinché possono possedere questa terra per loro stessi. E se accadrà che obbediranno ai suoi comandamenti saranno benedetti sulla faccia di questa terra e non vi sarà nessuno a molestarli né a togliere loro la terra della loro eredità ed essi vi dimoveranno per sempre in sicurezza. Ma ecco, quando verrà il tempo in cui essi degenereranno nell'incruidità dopo aver ricevuto sì i grandi benedizioni dalla mano del Signore avendo conoscenza della creazione della terra e di tutti gli uomini conoscendo le grandi e meravigliose opere del Signore fin dalla creazione del mondo essendo stato dato a loro il potere di compiere ogni cosa mediante la fede. Avendo tutti i comandamenti fin dal principio ed essendo stati portati dalla bontà infinita di questa preziosa terra di promessa Ecco, io dico, se verrà il giorno in cui essi rigetteranno il Santo Israele, il vero Messia, il loro Redentore e il loro Dio ecco i giudizi di colui che è giusto saranno su di loro. Chi egli porterà altre nazioni fino a loro e darà ad esse potere e toglierà loro le terre dei loro possedimenti e farà sì che essi siano dispersi e castigati. Chi col passare da una generazione all'altra vi saranno fra loro spargimenti di sangue e grandi calamità Pertanto, figli miei, vorrei che vi ricordasse sì, vorrei che voi deste ascolto alle mie parole o se vi svegliaste e svegliatevi da un sonno profondo, sì, dal sonno dell'inferno e scuotetevi di dosso le orribili catene da cui siete legati che sono le catene che legano i figlioli degli uomini così che sono trascinati schiavi giù nell'eterno abisso di infelicità e di sventure. Svegliatevi, alzatevi dalla polvere e udite le parole di un genitore tremante le cui membra dovrebbero presto mettere a giacere nella fredda e silenziosa tomba da dove nessun viaggiatore può tornare ancora pochi giorni e io andrò per la via di tutto il mondo. Ma ecco, il Signore ha redento la mia anima dall'inferno ho contemplato la sua gloria e sono eternamente circondato dalle braccia del suo amore desidero che vi ricordiate di osservare gli statuti e i giudizi del Signore ecco, questa è stata l'ansietà della mia anima fin dal principio il mio cuore è stato oppresso dal dolore di tanto in tanto poiché ho temuto che il Signore vostro Dio per la durezza dei vostri cuori uscisse contro di voi nella pienezza della sua ira per recidervi e distruggervi per sempre oppure che una maledizione ricadesse su di voi per lo spazio di molte generazioni e che foste visitati dalla spada e dalla carestia che foste odiati e foste condotti secondo la volontà e la schiavitù del diavolo ho figli miei che queste cose possano non venire su di voi ma che possiate essere un popo scelto e favorito dal Signore ma ecco, sia fatta la sua volontà poiché le sue vie sono rettitudine per sempre ed egli ha detto in quanto che obbedirete ai miei comandamenti prospererete nel paese ma in quanto che non obbedirete ai miei comandamenti sarete recisi dalla mia presenza ed ora, affinché la mia anima possa avere gioia in voi e affinché il mio cuore possa lasciare questo mondo in letizia per cargione vostra affinché io non sia calato nella tomba in tristezza e dolore alzatevi dalla polvere, figli miei e siate uomini e siate decisi con una sola mente e un solo cuore uniti in tutte le cose per non essere ridotti in schiavitù affinché non siate maledetti ed una grande maledizione e anche affinché non incolliate nella disoprovazione di un Dio giusto su di voi fino alla distruzione sì, la distruzione eterna sia dell'anima che del corpo veiatevi, figli miei indossate l'armatura della rettitudine scuotetevi di dosso le catene con le quali siete legati e uscite fuori dall'oscurità e alzatevi dalla polvere non ribellatevi più contro vostro fratello le cui visioni sono state gloriose e che ha obbedito ai comandamenti fin dal tempo in cui lasciamo Gerusalemme e che è stato uno strumento nelle mani di Dio per portarci nella terra di promessa poiché se non fosse stato per lui avremmo dovuto perire di fame nel deserto non di meno avete cercato di togliere la vita sì, egli ha sofferto molto dolore a causa vostra e io temo grandemente e tremo a causa vostra che egli non abbia di nuovo a soffrire poiché ecco lo avete accusato di aver cercato di potere e autorità su di voi ma io so che non ha cercato potere né autorità su di voi ma ha cercato la gloria di Dio e il vostro benessere eterno e voi avete mormorato perché egli è stato chiaro con voi voi dite che ha usato severità voi dite che si è dirato con voi ma ecco la sua severità era la severità del potere della parola di Dio che era in Lui e ciò che voi chiamate era la verità secondo quella verità che è in Dio che egli non poteva trattenere denunciando coraggiosamente le vostre iniquità ed è necessario che il potere di Dio sia con Lui fii che egli vi comandi e voi dobbiate obbedire ma ecco non era Lui ma era lo Spirito del Signore che era in Lui che gli apriva la bocca per parlare così che egli non poteva tacere e ora Laman figlio mio e voi pure Laman e Sen e voi pure figli miei che siete figli di Ismaele ecco se darete ascolto la voce di Nefi voi non perirete e se gli darete ascolto vi lascio una benedizione sì anzi la mia prima benedizione ma se non gli darete ascolto vi tolgo la mia prima benedizione sì proprio la mia benedizione ed essa si poserà su di Lui ed ora Zoram parlo a te ecco tu sei il servo di Labano non di meno tu sei stato condotto fuori dalla terra di Gerusalemme e io so che tu sarai per sempre un vero amico per mio figlio Nefi pertanto poiché sei stato fedele la tua posterità sarà benedetta insieme con la sua posterità affinché essi dimorino a lungo in prosperità sulla faccia di questa terra e a meno che tra loro non vi sia iniquità nulla potrà guastare o turbare la loro prosperità sulla faccia di questa terra per sempre pertanto se obbedirete ai comandamenti del Signore il Signore ha consacrato questa terra per la sicurezza della posterità con la posterità di mio figlio capitolo 2 Ed ora Giacobbe io parlo a te tu sei il mio primo genito nei giorni delle mie tribulazioni nell'eserto ed ecco nella tua infanzia hai sofferto afflizioni e molto dolore a causa della durezza dei tuoi fratelli non di meno Giacobbe mio primo genito nell'eserto tu conosci la grandezza di Dio ed Ehi consacrerà le tue afflizioni per il tuo profitto pertanto la tua anima sarà benedetta e tu dimorrai in sicurezza con tuo fratello Nefi e i tuoi giorni saranno spesi al servizio del tuo Dio pertanto io so che tu sei redento per la giustizia del tuo Redentore poiché hai visto che Ehi verrà nella pienezza del tempo per portare la salvezza dei uomini e tu hai visto la sua gloria nella tua giovinezza pertanto tu sei benedetto al pari di coloro presso i quali Ehi svolgerà il suo ministero nella casa poiché lo spirito è lo stesso ieri oggi e per sempre e la via è preparata fin dalla caduta dell'uomo e la salvezza è gratuita e i uomini sono istruiti sufficientemente per distinguere il bene dal male e la legge è data ai uomini e nessuna carne è giustificata della legge ovvero a causa della legge gli uomini sono recisi e mediante la legge temporale essi furono recisi e anche mediante la legge spirituale essi periscono per tutto ciò che è buono e diventano infelici per sempre pertanto la redenzione viene dal santo messia e tramite lui poiché egli è pieno di grazia e di verità ecco egli soffre se stesso quale sacrificio per il peccato per rispondere ai fini della legge per tutti coloro che hanno un cuore spezzato e uno spirito contrito e per nessun altro è possibile rispondere ai fini della legge pertanto quanto è importante far conoscere queste cose agli abitanti della terra affinché possano sapere che non c'è nessuna carne che possa dimorare alla presenza di Dio se non tramite i meriti e la misericordia e la grazia del santo messia che depone la sua vita secondo la carne e la riprende per il potere dello spirito perché egli possa far avverare la resurrezione dei morti essendo egli il primo a dover risuscitare pertanto egli è la primizia per Dio in quanto che farà intercessione per tutti i figoli degli uomini e coloro che credono in lui saranno salvati e a motivo dell'intercessione per tutti gli uomini vengono a Dio pertanto essi stanno alla sua presenza per essere giudicati da lui secondo la verità e la santità che sono in lui pertanto i fini della legge che il santo ha dato per infliggere la punizione che è prescritta la quale punizione che è prescritta è in opposizione a quella felicità che è prescritta rispondono ai fini dell'espiazione poiché è necessario che ci sia un'opposizione in tutte le cose se non fosse così mio primo genito nel deserto non potrebbe realizzarsi la rettitudine nella malvagità nella santità nell'implicità né il bene né il male pertanto tutte le cose devono necessariamente essere un solo insieme pertanto se fosse un unico corpo dovrebbe necessariamente rimanere come morto non avendo né vita né morte né corruzione né incorruttibilità né felicità né infelicità né sensibilità né insensibilità pertanto esso sarebbe stato inevitabilmente creato per nulla pertanto non vi sarebbe stato alcuno scopo nel fine della sua creazione pertanto ciò avrebbe necessariamente distrutto la saggezza di Dio e i suoi eterni propositi e anche il potere la misericordia e la giustizia di Dio e se direte che non vi è legge direte anche che non vi è peccato e se direte che non vi è peccato direte pure che non vi è rettitudine e se non ci fosse rettitudine non ci sarebbe felicità e se non ci fossero rettitudine né felicità non vi sarebbero punizioni né infelicità e se queste cose non esistono Dio non esiste e se non esiste Dio non esistiamo noi nella terra poiché non vi sarebbe potuta essere alcuna creazione di cose né per agire né per subire pertanto tutte le cose avrebbero dovuto svanire ed ora figli miei vi dico tutte queste cose per vostro profitto e istruzione poiché esiste un Dio ed Egli ha creato tutte le cose sia i cieli che la terra e ogni cosa che è in essi sia cose per agire che cose per subire e per portare il compimento i suoi scopi eterni riguardo al fine dell'uomo dopo che Egli ebbe creato i nostri primi genitori e le bestie dei campi e gli uccelli dell'aria e infine tutte le cose che sono create era necessario che vi fosse un'opera di opposizione proprio il frutto proibito un'opposizione all'albero della vita l'uno dolce e l'altro amaro pertanto il Signore Dio concesse all'uomo di agire da sé pertanto l'uomo non avrebbe potuto agire da sé a meno che non fosse attirato o dall'uno o dall'altro e io lei debbo necessariamente sopportare secondo quanto ho letto e supporre che un angelo di Dio secondo ciò che è scritto sia caduto dal cielo pertanto divenne un diavolo avendo cercato ciò che era male al cospetto di Dio e poiché era caduto dal cielo ed era diventato infelice per sempre e io cerco di rendere infelice anche tutta l'umanità pertanto disse a Eva sì proprio quel vecchio serpente che è il diavolo che è il padre di tutte le menzogne pertanto e gli disse mangiate del frutto proibite e non morrete ma sarete come Dio conoscendo il bene e il male e dopo che Adamo ed Eva ebbero mangiato il frutto proibito furono scacciati dal giardino di Eden per lavorare la terra ed essi hanno generato dei figlioli sì proprio la famiglia di tutta la terra e i giorni dei figlioli e degli uomini furono prolungati secondo la volontà di Dio affinché potessero pentirsi mentre erano nella carne pertanto il loro stato divenne uno stato di prova e il loro tempo fu prolungato secondo i comandamenti che il Signore Dio diede ai figlioli e gli diede il comandamento che tutti gli uomini devono pentirsi poiché mostrò a tutti gli uomini che essi erano perduti a causa della trasgressione dello genitore ed ora ecco se Adamo non avesse trasgredito non sarebbe caduto ma sarebbe rimasto nel giardino di Eden e tutte le cose che erano state create avrebbero dovuto rimanere nello stesso stato in cui erano dopo essere state create e avrebbero dovuto rimanere per sempre e non avere fine ed essi non avrebbero avuto figlioli pertanto sarebbero rimasti in uno stato di innocenza senza provare gioia poiché non conoscevano l'implicità senza fare il bene poiché non conoscevano il peccato ma ecco tutte le cose sono state fatte secondo la saggezza di colui che conosce tutte le cose Adamo cadde affinché gli uomini potessero essere e gli uomini sono affinché possano provare gioia e il Messia verrà nella pienezza del tempo per poter redimere i figlioli degli uomini dalla caduta e poiché sono stati redenti dalla caduta essi sono diventati per sempre liberi distinguendo il bene dal male per agire da sé e non per subire se non la punizione della legge nel grande e ultimo giorno secondo i comandamenti che Dio ha dato pertanto gli uomini sono liberi secondo la carne e sono date loro tutte le cose che sono opportune per l'uomo e sono liberi di scegliere la libertà e la vita eterna tramite il grande mediatore di tutti gli uomini o di scegliere la schiavitù e la morte secondo la schiavitù e il potere del diavolo poiché egli cerca di rendere tutti gli uomini infelici come lui ed ora figli miei vorrei che guardaste al grande mediatore ed esse ascolto ai suoi grandi comandamenti e fosse fedeli alle sue parole e sceglieste la vita eterna secondo la volontà del suo santo spirito e che non sceglieste la morte eterna secondo la volontà della carne e del male che è in essa che è da loro allo spirito del diavolo il potere di farvi schiavi e di trascinarvi giù in inferno per poter governare su di voi nel suo regno ho detto ho detto queste poche parole a voi tutti figli miei negli ultimi giorni della mia prova e ho scelto la parte buona secondo le parole del profeta e non ho altro intento se non il benessere eterno delle vostre anime amo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti